Volevo dirvi che la situazione in questo momento è molto inquietante perché c'è il mio gatto che è così, che guarda il nulla da praticamente un quarto d'ora Io non so che cosa gli stia succedendo Basta guardare il burla C'è sempre tipo delle cose Tutto fatto Raga, è veramente inquietante sta roba Cioè non l'ha mai fatto Bicio Chi c'è? Raga vi sto cagando addosso Raga è passata un'ora E siamo ancora così Un'ora raga Assolutamente Cioè mi hanno detto che quando fanno così Le cose sono due O ci sono gli spiriti O Dov'ha? Che ansia sto cagando Ma che è? Che fa? Ma che cazzo fa? Ma raga ma dove fa? O significa che sta arrivando tipo una tempesta? Niente Niente raga E vi giuro è meno male che Che è tutto quanto ripreso perché Vabbè Niente raga Sono Abbiamo toccato l'ora e mezza Facendo avanti e indietro Tra il terrazzo E questa parte della casa E mi avete detto in tantissimi Che è probabile Che arrivi qualcosa di brutto Questo è un video Che sto registrando Dopo aver fatto delle storie Perché praticamente c'è il mio gatto Che da quasi mezz'ora Continuo a fissare Senza motivo Spero In bagno E mi metto un'ansia Allucinante Allora io non credo in queste cose Ma si dice spesso Che appunto i gatti vedano Delle cose Che noi umani non vediamo E adesso ve lo mostro Diccio chi c'è Chi c'è Che guardi C'è qualcosa che non va Perché comunque io qua Oh C'è C'è non c'è niente raga Diccio che c'è che ti rende nervoso Cosa c'è che ti rende nervoso Tato Eh No non per niente ragazzi Però vi giuro Cioè io sto beatamente giocando A Red Dead Redemption 2 E il mio gatto Si fissa Ragazzi guardate Cioè si fissa Si ferma E vede cose Che cosa vedi Eh ma che cazzo Che c'è Che c'è Ragazzi C'è un'ansia Eh raga Cioè a casa mia Sono 70 metri quadri Nemmeno E La sto Guardando tutta Niente raga Raga non è Normale raga Non è Normale Quello che sta Accadendo Al mio gatto Mi giuro Si mette lì Si siede E guarda E mi sto cagando addosso Bicio chi c'è Ma vi giuro io non Ripeto che io sono uno che non crede in queste cose assolutamente Però Sei irrequieto Bicio Sei irrequieto Cosa succede Vieni qua Vieni Vieni Bicio vieni qua Niente mi son seduto Per vedere se torna qui Cioè si sta girando per casa Ma non capisco Cioè gira irrequieto ragazzi Oh Dov'ha Che ansia sto gatto Ma che è Che fa Ma che cazzo fa Ma raga ma dove va Ragazzi Adesso sto sentendo dei rumori Che non ho mai sentito in vita mia Bicio sembra tranquillo Perché sto così Però Mi sto cagando addosso Sono le 9 e un quarto raga E niente Quindi è già sera Raga mi sono cagato addosso Ragazzi si è mossa la tenda raga La finestra è chiusa Si è mossa la tenda raga Cioè prima se non sbaglio Riguardare adesso le riprese Era chiusa E il gatto è lì Che sta cercando non so cosa Bicio cosa sta succedendo Bicio perché sei lì Sta cercando qualcosa raga Ma non capisco cosa Non capisco cosa La finestra è chiusa raga Raga sto impazzendo Sto continuando a sentire questi rumori E sta roba mi sta facendo cagare addosso Cioè che la tenda prima si sia spostata Sto morendo vi giuro Adesso l'ho risistemata Per vedere se la ritrovo così raga Chi c'è? Chi c'è? C'è qualcuno? No Grazie a tutti.